Questa volta non andremo a cercare la carta uguale, ma andiamo a cercare la carta dove c'è la frazione complementare, ok? Quindi gireremo una carta dove c'è scritto tre ottavi e andremo a cercare quella dove c'è scritto cinque ottavi, chiaro? Per aiutarvi un pochettino le carte complementari sono colorate nello stesso colore, ok? Facciamo una prova? Vai Ricky girane una, un quarto, quindi dovremmo andare a cercare, mettila sempre qua, così poi se hai sbagliato la recitiamo, cosa dovremmo andare a cercare? Tre quarti, bravissimo, vai proviamo ad andare a cercare se lo trovi subito, due quarti, bravissimo, si rigira, vai, due terzi, quindi dobbiamo cercare? Quanto ci manca per arrivare a tre? Dal due? Quattro, cinque Due, arrivare al tre? Uno, quindi ci manca un terzo Nooo Vai Ricky Quattro noni Due quarti Nada Tre settimi Mi sto portando prima? Tre ottavi Vai, 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 vai Nooo Però tre quarti ci ricorda qualcosa, vero? Tre quarti Vai, 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 se ti ricordi vai Sei bea Sì Quindi una coppia, va la via Vai Nove undicesimi, anche questa mi sa che c'è nuova Non c'è nuova No Ricordiamoci dove se le abbiamo prese, due settimi, nove undicesimi Due terzi Cinque noni, questa, eh Questa ci ricorda qualcosa, vero? Cinque ottavi Bravo Ricky Grande Ricky Nove undicesimi Ancora un nove undicesimi Ci mancano? Nooo Quattro Quattro noni Così Cinque settimi Tre settimi Sì Attento, eh Cinque Due settimi Il rosso Cinque noi No, era Cinque noni Coppia Quattro noni Brava Ok Bravissimi Sono due a due, eh Qua c'è una sfida Un terzo Un terzo è uscito qua, eh E la due quarti Brava No, no Mi sentimentsimi Non vanno insieme Questa è fortuna mia, questa è fortuna brava mia ok perfetto